Musica Bene ragazzi eccoci qua per questa piccola introduzione, piccolo video Per riportarvi a circa due settimane fa Se guardate nei vostri video abbiamo messo un training Ci sono certe persone che non fanno parte del Petty Pie Squad Perché non fanno parte? Sono venute con noi a provare le moto Chi stava imparando con la moto di Michael senza frizione E chi con la mia moto con la frizione Imparando ad andare in moto Scusate il giro di parole Questo per farvi capire che basta che ci contattate e ci cercate Noi vi portiamo tranquillamente a fare il giro in moto con noi Senza nessun problema Non dovete pagare niente perché vi insegniamo ad andare in moto Non siamo a scopo di lucro Non c'è fare proprio nulla Per cui dopo la fine di questa intro Vedrete una ragazza e un ragazzo Prima ragazza e poi ragazza Si riprendono entrambi Avete pazienza per le riprese Non le ho fatte io Sono più o meno decenti Non possiamo lamentare su quelle Una volta così importante Ah scusate Saluto Dani Perché nelle saluti purtroppo è stato La salute è stato ridotto Tra audio e video dicendo E non si è capito bene Per cui siamo Dani Tutti colori che ci conoscono I ragazzini che ci seguono sempre Davide, Momo Andrea, Roberto, Mirko Federico Tutti Tutti Se vi dimentico qualcuno Scriveteci sotto Che vi salutiamo senza problemi Una cosa importante Adesso noi vorremmo arrivare a 3.000 iscritti E 200 visual Speriamo al giorno Per poter inserire i contest Io davanti a me ho il computer E stiamo preparando il logo Per le magliette I primi contest Regaleremo magliette Andando avanti Se ci seguite Inizieremo a regalare Caschi, guanti Via dicendo Da cross Vedete No come fai Ma non preoccupatevi Voi seguiteci Iscriveteci Sorpassiamo i 3.000 Sorpassiamo i 200 visual La video E vedrete che non vi pigliamo in giro Spediamo Anche fuori dalla Sardegna Siamo in Sardegna Speriamo anche fuori dalla Sardegna Con tanto di ricevuta Non c'è problema Non vi pigliamo in giro Voi seguiteci Aumentate gli iscritti Aumentate le visualizzazioni E noi saremo i primi A accontentarvi Ok Per cui 3.000 iscritti 200 visual Minimo Per favore Se volete voglio farlo Iscrivetevi al canale Attivate le notifiche E via Mi piace Mi piace come ho detto Shanti Seguitici sempre Bella ragazzi Alla prossima Alla prossima è sempre meglio sempre meglio è meglio al contrario il giro cosa è fa boja piede a zbrodato Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. 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 Sì.